Parte il terzo tentativo per riqualificare dopo decenni la dogana di Avellino. Dovrebbe essere la Marsal Restauri, un'impresa con sede legale a Napoli, ad aggiudicarsi lavori di 3,6 milioni per realizzare il progetto dello studio Corvino e Moltari. L'azienda ha presentato un ribasso pari al 22,64%, il migliore rispetto alle altre 10 che hanno risposto alla selezione pubblica bandita dal comune di Avellino, dopo che la Sapit di Roma, vincitrice della prima gara, venisse rescissa e dopo che la impreca alla seconda nell'originaria graduatoria era stata bloccata per gli intervenuti e aggiornamento prezzi scattati ad inizio luglio. Se la Marsal dovesse risultare idonea dopo la verifica sulla sussistenza dei requisiti da parte degli uffici comunali, i lavori potrebbero cominciare anche a partire dai prossimi giorni. I lavori dovranno essere consegnati entro il mese di giugno dell'anno prossimo e rendi contati il successivo 31 dicembre. I mesi persi a causa dei ritardi originati dalle gare di appalto potrebbero essere recuperati con la concessione di una proroga rispetto ai tempi previsti dal finanziamento del progetto Città Sostenibili. La Marsal non potrà richiedere adeguamenti alle tariffe fino a giugno 2024.